Eccoci ritornati con Little Nightmare 2, ho portato un mese, due mesi fa la demo di questo gioco, ma adesso il gioco è effettivamente uscito, quindi entriamo in una nuova partita e scompriamo le avventure di Six e di Mono, il personaggio a quanto pare si chiama Mono, quindi non perdiamoci tanto in chiacchiere, iniziamo una nuova partita. Allora in teoria il gioco inizia proprio dove iniziava la demo, quindi quella parte lì principalmente l'assalto, se ci sono cose extra o cose nuove che nella demo non c'erano ovviamente le mostrerò, so già che ci sono dei cappelli che si possono trovare in giro a caso per la mappa, beh se li trovo già appunto li mostrerò. Ed eccoci ritornati qua con il nostro Mono, allora in teoria premendo ESC posso già mettere dei cappelli e ho sbloccato questo cappello che non so se si può tenere già da subito, io l'ho ottenuto preordinando il gioco. Ecco, è molto simpatico, metterò già questo cappello. Bene, io mi rifaccio questa parte e se ci sono cose extra, beh, ve le farò vedere. Perfetto, siamo ritornati nella casa della demo e ho trovato appunto uno dei cappelli. E appunto il gioco mi dice che nel menu di pausa posso equipaggiare i vari cappelli. Questo è tipo un cappello delle giovani marmotte, ok. E per adesso otterrò questo cappello qua appunto perché è nuovo per questa parte. Poi nella prossima magari metterò l'altro cappello. Intanto, torniamo giù da SIX perché a quanto pare il bambino barra bambina che si trova qua sotto è SIX. E ho anche scoperto che la musica che si sente nel Carion, o Carion, non so bene come si pronuncia, è appunto la host, o meglio il tema di Little Nightmare 1. Non ci avevo fatto caso nella demo. Bene, io come sempre continuo qua con il tutorial, barra demo, e noi ci vediamo se ci sono cose nuove oppure nel punto in cui si è interrotta la demo. Oh! Mi scusi? Ma c'è... Oddio, ma ci sono i nomini quelli di Little Nightmare 1. Allora, vediamo di andarlo a prendere. Perché in teoria era un collezionabile. O meglio, serviva per completare il gioco al 100%, io non punto a questo, però... Vediamo se anche qua funziona... Come su Little Nightmare 1 e ci ha sbloccato una nuova zona. Zone nuove che sul tutorial non c'erano. Quindi possiamo... Abbracciare il nomino? Qui posso aprire la valigia per caso? Sì. E dentro c'è il nomino. Ok. Ah, ma lo devo proprio cercare? So... Io guardi, orei... Avevo un po' della sua presenza. Ok. Dai, e vien fora. Sotto la poltrona. Come ti faccio uscire? Ok. E ci ha sbloccato la zona del nomino. Ok, ok. Eh, ma non si vede niente qua. Mamma mia, mi hai fatto prendere un colpo. So. Io vorrei abbracciarla. Oddio, ma qua dentro c'è un ratto. Ah, forse devo condurlo. Ok, ok. Vedo che c'è un piccolo percorso. Forse lo devo condurre fino a qua sopra. Per poterci vedere qualcosa. Perfetto, perfetto. Posso tirare il carretto qua per fargli strada. Bello, bello. Questa... Questa meccanica di spostare il nomino. Non so se si era già vista nel primo capitolo. Però è molto simpatica. Allora. So. Lei deve venire qua con me. E mi ha effettivamente aperto la porta. Ok. E qua c'è un interruttore. Tiriamolo. Tirato l'interruttore qua si può aprire. Sembrerebbe di no. Qua bottiglie come nel primo. Non esattamente. Io posso raggiungerti in qualche modo. O devo tornare indietro. Ah, forse lo posso raggiungere da questo cassetto. Ed effettivamente mi sblocca un passaggio. Sì, però telecamera, per favore. E qua come ci arrivo? Ah, ok. Eh, sì, ma non cadermi. Forse posso arrivarci da più in alto. Perché vedo che c'è un altro passaggio in alto. Sali, mono, sali. Ora, cercando di non cadere... Raggiungiamo il nomino. Cos'è? È un altro cappello? Sì, è un altro cappello. Ok, ok. Ho trovato un altro cappello. E il nomino ci ha aperto una zona di qua. La madonna, quanto è grande sta area. Sì, ma noi abbiamo lasciato Six laggiù. Dimmi che c'è un modo per tornare facile. E siamo effettivamente tornati all'inizio. Six, ciao. Ok, quindi non si deve abbracciare il nomino. Riesco a non morirci. Va bene, va bene. Abbiamo trovato un nuovo cappello. Bello, bello, bello. Eh, ok. Ci vediamo tra poco, allora. E siamo effettivamente arrivati dove finiva la demo. Ora, cerchiamo di entrare in quel buco senza farci sgamare stavolta. E siamo entrati nel buco. Perfetto. Qua la demo si interrompeva. Bene, vediamo di proseguire. Ok. Mamma mia, ma ci sta proprio cercando con un bordello di foga e non si vedrà niente. Devo alzare la luminosità del gioco. Ok, ho aumentato leggermente la luminosità del gioco. Spero che si veda. Veramente, spero che si veda. Bene, ora, tornerà il cacciatore. Intanto Six, vieni. E proseguiamo. Ah, comunque, ho scoperto che questo gioco, praticamente, viene prima di Little Nightmare 1. Cosa c'è, Six? Cosa hai visto? Oh, madonna. È profondissimo. E come ci arriviamo? Salto e non ce l'ho fatta. Gioco io come... Ah, ok. Posso tirare sul ponte. Posso tirare sul ponte. E Six può passare. Sì, ma se io mollo... Eh, il ponte cade. Quindi con Quintoria posso chiamare Six. Ok. Ah, e lei mi prende. Bene. Ah, lassù vedo qualche... Oddio, non mi dire che è quello che penso. Ah, no, ok, ok. È solo un cappello. È solo un cappello che io, ovviamente, voglio prendere. E abbiamo un nuovo cappello. Perfetto. Ce ne sono un bel po' di cappelli. Ma non pensavo di trovarne già tre a inizio gioco. Allora. Vediamo cosa c'è di bello qua giù. Vedo una luce. Vedo una luce. Il cacciatore ci sta ancora cercando. Quindi vediamo di muoverci. Merda, mi ha visto. Vai dietro la cassa. No, no, mi sono incastrato. No. E mi ha preso. Quindi il cacciatore ci cerca ancora. Dobbiamo muoverci, quindi. Allora, adesso vediamo di muoverci. E mi ha visto di nuovo. Dai. Corri. Mono, corri. Ok, perfetto. Dobbiamo salire per di qua. Dietro la tv, veloce. Stiamo dietro la tv. Ok. Sali, Mono, sali. Ok. È arrivato il momento del salto. Mamma mia. Corri, corri. Mono, corri. No, sono caduto. Sono caduto a casissimo. Ok, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Bene. Corri, Mono, corri, Mono. Quanti proiettili ha in canna quest'uomo. Siamo finiti sott'acqua. Mamma mia. È qua sopra di noi, è inquietantissimo. Ah, ok. Con control ci si può abbassare e andare sott'acqua, però ovviamente non penso che potremmo restarci sotto quanto vogliamo. Quindi passiamo per qua sotto. Allora, forse posso passare sotto questa trave. Anche perché non vedo molte alternative su come arrivare dall'altra parte del molo. Effettivamente possiamo passarci, però lui è appostato là. Ok, non ci ha visti. Perfetto. È indemoniato comunque questo tipo. E forse possiamo passare per di qua. Ok, ora presumo che dobbiamo buttare giù l'albero. Ok, ho buttato giù l'albero. E siamo anche passati per di qua. Ora, usciamo dall'acqua e saliamo per questa scala. Salite, Mono, Six, salite. Allora, lui è là che ci cerca, però qua sotto ci sono dei corvi bastardi, ci faranno sgamare. Allora, proviamoci a fare qualcosa di bello. Dietro la cassa. Dietro l'altra cassa. Qua dentro, qua dentro, qua dentro. Ok, brava, Six. No, non mi dire che possiamo... Oddio. Non ci credo. Abbiamo sparato al cacciatore. E adesso? Possiamo uscire a vedere il cacciatore? No. Non possiamo uscire. Ma cosa? Abbiamo sparato al cacciatore. E qua c'è una porta. Penso di... Possiamo usare come zattera. Ma che storia. Bene, abbiamo preso il largo adesso. Chissà dove andiamo. Dai trailer si è intravisto che dovremmo andare in una specie di città. Gioco? Io devo fare qualcosa? Oppure... Devo solo guardare? Perché vedo televisori, vedo una boa. Ho visto una bottiglia prima. E... La musica sta cambiando. Anche l'inquadratura sta cambiando. E siamo arrivati effettivamente in una città. Con dei palazzi molto bizzarri. Ma cosa? Oddio. Quello sta per cadere. Anche quello sta per cadere. Sembra tipo... Una... Una città meccanica. È uno stile grafico molto... Molto alla macchinarium. A parer mio. E qua? Cosa c'è? Oddio, c'è un bambino lì. Salve. Oddio. Oh, com'è assorbito il bambino? Ho assorbito un bambino? Ok. Per... Per mono è tutto normale. Per Six pure. In questo... In questo mondo si assorbono i bambini. Accemento sbloccato. Temprato. E lì ci sono dei vestiti appesi. Ah no, non sono dei vestiti. E qui è un signore con le gambe molto lunghe. Va bene. Va bene gioco. E qui va ad iniziare la nostra avventura su questa città. Ma aspetta, io voglio vedere se ci sono cose extra qui da qualche parte. Posso proprio andare dove voglio? Allora, dai trailer si è visto che mono ha un potere. Che è quello di poter passare attraverso i televisori. Però non so come attivarlo. Forse è da accendere quel televisore. Io posso andare da qualche altra parte. Sembrerebbe di no. E allora proseguiamo per di qua. Ok, siamo in una specie di cucina. Molto disordinata, oserei dire. E di qua. Quale boss di area ci sarà? Altri televisori. Eh, qua debbi farmi salire tu Six. Grazie. Ok, forse devo, devo aggrapparmi qua. Sono morto, ok. Facciamo, lasciamo perdere tutto questo. Devo tipo buttare giù il televisore in qualche modo. E sono caduto di nuovo. Allora, che mi devo aggrappare qua. Ce l'ho arrivato. Ok, devo dondolarmi e tirare scarpate al televisore. Che mi fa salire. Ok. Eh, Six, un secondo e arrivo anche da te. E sono morto. Oddio. Eri imbalzato sulla televisione. Ma che cazzo. E devo rifare, devo rispingere il televisore. Ok, adesso spingiamo giù questo. E tiriamo su Six. Che però è più in alto, lei. O lui. Ah, e lei deve darmi una mano a passare dall'altra parte. Va bene, va bene. Arrivo. Ok, con quale animazione. E proseguiamo. Oh mio Dio, non vuoi fare quello che penso. Monoparkour. Oh yes. Ah, un signore si è impiccato e a quanto pare è anche evaporato. Certo, perché funziona così. Ok, ok. In questo mondo funziona così. E c'è una televisione, ok. Forse qua Mono scopre il suo potere. Gli fa male le orecchie. O ha la testa. Oh. Si vede qualcosa. È un corridoio. Premi Wast per sincronizzare la trasmissione. Trasmissione a sincronizzare. E dove... Dove... Oddio. Ma questo è il corridoio... È il corridoio del filmato iniziale. E noi stiamo correndo sul corridoio. Oddio. Sembrerebbe un ologramma di Mono. Oppure un ricordo. E siamo stati effettivamente buttati fuori dal televisore. Ed è partita una musica simpatica. Ok. Beh, perfetto. Direi che per oggi abbiamo visto abbastanza. Nella prossima parte di Little Nightmare spero di... Scoprire più cose. Più... Avere più risposte alle mie domande. Va bene, dai. Direi che per questa prima parte di Little Nightmare 2... È tutto. Noi ci vediamo alla prossima parte. Che mi fa salire. Ok. Eh, Six. Un secondo. E arrivo anche da te. E sono morto. Oddio. È rimbalzato sulla televisione. Ma che cazzo.